E chi ti dice se sei andato in Vietnam o se sei andato a Ojan sei un coglione? E digli che il coglione è lui! Basta! Veramente! Non ce la faccio più! Fermiamoci qua! Sono piena rasa! Benvenuti a Ojan! Benvenuti! Siamo nella famosa città delle lanterne! Adesso andiamo a mangiare una roba! Si accende l'atmosfera di sera! Allora, non perdiamoci in chiacchiere! Siccome arriviamo da Danang in giornata, abbiamo preso una camera per farci il weekend qua e vedere Ojan, Sotto consiglio di Marchito Express Flavia veniamo a provare Madame Khan che si autoproclama la regina del Banh Mi in Vietnam Umile! Quindi adesso entriamo dentro perché poi prendono sia da sport che per mangiarlo lì ma noi ce la mangiamo lì e poi come vedete si stanno accendendo le lanterne quindi facciamo un giro nella zona vecchia vediamo un paio di cose Due vegetarian Banh Mi e due Lipto partiamo così per un totale di 50.000 baht Si è capito! Più 30, 80.000, 3 euro 2 panini e due Lipton Eccolo qua! Aprimelo un po' la Franchinella in uno Allora come vedete c'è formaggio, uova, pomodoro, insalata, cucumber una salsa che non so sono belli grossi 25.000 è meno di un euro Allora essendo un posto inflazionato avevamo un po' paura che ci fossero dei prezzi un po' più sopra la media invece no vogliamo un assaggio Fiore? Si hai ragione fammi mettere solo un po' di spice senza sapere, senza tastare ormai tutto il buio Sì, non l'abbiamo preso con la carne, l'abbiamo preso più leggero Buono? Fresco? Molto fresco Piccante ci sta? Si? Ok, lo metto anche io Comunque il locale è molto, come dire, spartano, molto semplice Hanno loro là fuori La panina è buona Ci siamo? La panina è buona Bene, vado io adesso Non so ne avete già visto questa scena, Mariolino raddoppia Si, ne ho presonato, è totalmente buono e leggero Comunque dentro c'è un po' di salsa di soia, è una salsina che lubrificano un po' il panino è buonissimo, speciale Hai detto il migliore che abbiamo mangiato quel dietro per ora Qualità, prezzo, migliore Grazie del consiglio, Marco e Flavia Da che parte? Comunque ho letto che una delle cose da fare qua è farsi fare un vestito Ora Devi sapere che prima di diventare uno dei posti più instagrammati del Vietnam praticamente Ojan nasce come un punto commerciale, un crocevia commerciale molto molto importante Quindi tessuti, merci, una volta da qua passavano e poi venivano dislocati in tutto il Vietnam Poi è diventata una boutique a cielo aperto Su misura, se vuoi qualcosa ti scegli il tessuto Eh già Non abbiamo spazio in valigia, amor Ma no, tanto no Non fa per me Questi abiti non fanno per me Una particolarità qua a Ojan Come vedete alle mie spalle Quando si entra nel centro storico, oltre a pagare Non si può girare col motorino Infatti vedete che è pieno Mi piacerebbe capire cosa vuole pescare il signore alle mie spalle in queste acque Meglio non saperlo Un bel suscettino Che ne dici? Comunque sì, vedete, è pieno di scooter Quindi li dovete lasciare tutti fuori Naturalmente più si lasciano vicini al centro storico e dovrete pagare, ovviamente Mentre se li lasci 200 metri più in là, i motorini, nessuno vi chiede niente Quindi sta anche alla vostra furbizia Ok, possiamo andare, che dici? Possiamo andare Comunque vedi già? C'è un primo scorcio Sì, a questo ora è molto carino Di lanterne, luci Va bene, addentriamoci Addentriamoci Voilà, non si va, non si va, grab Vedete Ripreso in tempo reale Non si va Allora, facciamo un piccolo giro qua del centro Le immagini saranno quel che sono perché comunque di sera il telefono fa un po' più di difficoltà Però facciamo un giro, fa molto caldo stasera Quindi Chiario si è appena spaccato due bambie per quello C'è anche l'arietta Eh, ma io ho caldo in questo momento Vabbè, comunque sì, fa caldo Dovete sapere che il centro storico, essendo chiuso al traffico, è molto più vivibile Nonostante sia molto turistico Ci sono tanti templi, delle sale molto particolari Noi ne vedremo alcune Non abbiamo organizzato una visita molto strutturata Perché comunque abbiamo previsto di passeggiare per il centro e goderci la particolarità di questo posto Che sono le lanterne, questa atmosfera Cerchiamo di condividerla con voi Partiamo da questo tempio buddista E poi esploriamo un pochino il centro vicino al lungo fiume Venite con noi Facciamo un video easy Tra l'altro siamo venuti già qua a Oiyan E l'altra sera siamo venuti a farci una cena Per fare una prima per l'ustrazione E iniziare a scoprire un po' il posto Però adesso abbiamo questi due giorni Mettiamola così per girarci la città Niente, Ari è dall'altra sera che non si capacita di questi stivali da cowboy Infatti li devo riprendere Sto rivendo quello che vivi a Ucimì col motorino Cioè, c'ho troppa gente addosso Già sto sclerando Il centro è piccolo C'è tanta gente E non siamo ancora all'orario di punta Cioè È un posto molto fotogenico comunque Si può dire Sì Allora, sono sempre belle quelle immagini qui di Instagram Dove sembra tutto perfetto Questo è il dietro le quinte Questa è la Ria Oiyan Come dicevo prima, noi siamo venuti l'altra sera C'era gente Ma non essendo il weekend Potevi ancora passarci Cioè, guardate quanta gente c'è Ma perché questo è il ponte giapponese Uno dei posti più fotografati Ma ti pare? Ma la gente non sta bene Ma ti pare? Comunque, guarda che roba Ma la gente non sta bene davvero Cioè, guardate che carnaio Quindi va bene tutto Non vi vogliamo deludere Come sempre noi vogliamo raccontarvi le cose che vediamo Qua sto vedendo una roba che vuoi Di Vietnam non lo so E questo è quello che vediamo ragazzi Allora, o venite più tardi o evitate il weekend Adesso sono le 18.30 Carnaio No, ti manca l'aria Già oggi fa caldo Poi vedete questa gente che ti spintone Ma poi sai cos'è? Che quando tu vedi sui social Questo posto è tranquillo, romantico, figo Non c'è niente di tutto È tutta quell'atmosfera che vi vendono con le musichette Non esiste Lo posso fare pure io il montaggio Faccio un tail up Aspetta una musichetta Due angolazioni di riprese diverse E sembra un posto incantato In realtà questo è quello che c'è Questa è la bolgia Anche perché poi ci sono tutti i locali Sul lungo fiume C'è casino Negozi per turisti Non fai in tempo a entrare Già Vuoi fare il giro sulla barca? No Vuoi fare il giro sulla barca? No Non lo so ragazzi Noi è più di 20 giorni che siamo in Vietnam Non abbiamo visto niente di tutto questo Ed ecco il rovescio della medaglia Di questi posti turistici Nel senso Alla fine è anche quello che vedete alle mie spalle No? Lanterne, luci, curato, locali Non c'è nessuno Con questo non vogliamo dirvi Che non è un bel posto Non dovrebbero passare i motorini Ovviamente Vuoi dire una roba Tutti i motorini Ecco un altro Con questo non vogliamo dire Che non è un bel posto Ci siamo già venuti appunto l'altra sera Continuano a passare i motorini E io vado avanti Perché se no non dico più niente È da vedere Perché sicuramente è una roba particolare qua in Vietnam Però come raccontava prima Chiara Passeggiando tutti questi ristoranti Tutti questi locali Ed i tessili Questi negozi E gli stivali da cowboy Ma lo so Sembra veramente un po' too much Anche perché poi veramente Lì Sono tutti lì Per fare una foto A delle lanterne Su una barca Che poi stra pieno Tipo floating market in Thailandia Ma vedrete anche questo sul canale E poi vieni qua E boh C'è nessuno Sembra che questa qui Sono a Danang In realtà sono a 150 metri Dove avete visto quel carnaio Sì sì Siamo proprio là dietro Pazzesco Quindi questo Secondo me poi se dico Se la città è bella No? Mi aspetto di trovare gente in giro Perché alla fine Tutta questa zona qua È tutta pedonale Quindi puoi camminare Tranquillo Invece no Come i caproni Si va tutti là A farla Noi eravamo gli unici Che venivamo in questa direzione E tutti gli altri dall'altra parte Quindi è bello Merita Una notte Due notti Poi diventa una roba stucchevole Non è Vietnam È una roba particolare Patrimonio dell'UNESCO Sicuramente Però se devi farti cinque giorni qua Alla fine scendo E c'ho sempre quella Vuoi fare il giro in barca Vuoi fare il giro in barca Compra vendi Compra vendi No Anche no Quindi uno o due giorni Poi secondo me Andatevene in giro Che forse è meglio No perché poi sembra che uno vuole Cioè guardate Qua non è la stessa roba Zona pedonale Ci sono i negozi Vi faccio vedere Guardate Siamo in quattro gatti Perché sono tutti di là Sono tutti là Tutti là Io non mi sono osato avvicinare Volevo fare due riprese alle barche No non si può In questo momento non si può No perché poi mi spintono Ancora mi cade la roba in acqua Anche no Sinceramente per questi pazzi Che devono fare due foto Esatto di questi posti Che la gente viene Per farsi la foto Perché poi In tutto il Vietnam È il posto in cui Ci sono delle cose belle da vedere Perché ci sono dei tempi Tutto Ma la gente viene qua Per farsi le foto sul canale Questo per dirvi Non Noi non vogliamo demonizzare Questi posti No Perché anche noi Visitiamo i posti turistici E ci piacciono Però Visitateli con consapevolezza Sapendo che questa È una bolla turistica A tutti gli effetti Con i suoi pro E i suoi contro Esatto Tutto lì Noi ci stiamo soffermando Sulla parte centrale Quella più battuta Il ponte giapponese Però Se venite di giorno Si può anche andare in giro Qua fuori Sì Perché è circondata Da tutta una zona rurale Oian Ci sono le risaie Ci sono i bufali Ci sono anche i contadini Che ti fanno Fare la foto con i bufali Se vuoi pagare Cioè capito Si può fare il giro in bicicletta Cioè diventa un po' tutto Al servizio di quello che è Però i dintorni Sono molto belli Molto verdi Quindi se uno in giornata Vuole farsi Un giro in bici Il noleggio delle bici Qua è carino Si può fare Per rendere l'idea Di quello che abbiamo appena detto In questo video Che comunque il posto è bello Però a noi non c'è gusta Io voglio farvi questo esempio qua Io l'altra sera che sono venuto Abbiamo fatto la cena di sushi Abbiamo fatto un giro Qua nel centro Come vedete Mi è piaciuto Perché comunque È la prima volta che lo vedi È una roba che Da venti giorni Siamo in vieta Non si è abituata a vederla Stasera Che sono qui già Per la seconda sera E dovrei fare anche domani Me la voglio già andare Perché è un carnaio È pieno di gente Quelli che ti spingono Per fare le foto Ma perché? Gente che mi martella Per farmi un cacchio di giro Su ste cacchio di barche Guarda sono 200 barche Non voglio che passi solo il concetto Però effettivamente Ragazzi è È brutto come dei posti così belli Così importanti Perché poi si vede che la parte della città vecchia Ha una sua storia Ha una sua importanza È brutto che si riducano a quello È veramente un po' Un po' brutto Un po' triste E si vede che è tutto studiato per persone Che stanno qua al massimo un giorno E poi se ne vanno Questa è la grande differenza Ad esempio con le città come Danang Che invece ti invogliano Anche se sono meno Che poi anche lì è da vedere Però meno di impatto Io non sono d'accordo Però può essere così Così viene venduta Può essere così Però non ti fanno sentire un bancomat che cammina Ripetiamo Se venite in Vietnam E avete visto 180 foto Come abbiamo visto noi di Ojan Veniteci Perché nessuno vi dice Saltate a piepari un posto di merda Però veniteci Con la consapevolezza Che vi troverete Questa roba qui E ad alcuni può anche piacere Esatto Perché questo è il nostro punto di vista Ma noi non siamo tutte le persone A uno può anche piacere Però non aspettatevi le strade deserte Le lanterne Solo voi che fate il giro in barca C'è i vietnamiti che vi sorridono Assolutamente no ragazzi C'è quelli che vi sorridono Perché vi stanno sfilando i soldi dall'altra parte Perché Ed è giusto che sia così L'abbiamo anche visto in Thailandia L'abbiamo visto in tanti posti Purtroppo Questi posti Sono così Che bella Quelle barche lì Peccato che non mostrano la fogna che c'è qua L'odore di L'odore che non potete sentire purtroppo nel video Ma Tanto viene a mangiarti una roba qua tranquillo Cioè capito Per noi sarebbe stato molto più facile Metterci lì nel ponte Andare nel ponte Quando non c'era nessuno Ti fa le tue di notte La musichetta Ti fai la foto figa Che bella oianco mi dicono tutti Ma sapete noi non siamo fatti così Quindi vi dobbiamo dire quello che pensiamo E questo è quello che pensiamo Bella ma sfruttata Mi dispiace Ma è così No vabbè Cioè la gente non sta bene comunque Questo tra un po' va in acqua Per fare le foto Nella fogna più totale Ma poi non si guarda neanche intorno Solo lì per farti la foto Che sei dietro la lanterna Cioè Volete farvi un giro da soli sulla barca? Non potete Cioè comunque sono tutti su quel ponte amore Mamma mia ragazzi I migliori sono quelli che si tolgono il giubbotto Per fare un momento la foto E poi se lo devono rimettere Per far vedere In realtà vi dando il giubbottino Perché magari vai anche giù Con ste cacchi di barchetti Già certo Però cosa fai su Instagram? Puoi farti la foto figa con No C'ho il vestito Si sarà studiato l'outfit per una settimana E poi devo farmi la foto col giubbotto C'è il momento dove metti la lanterna lì Esatto In acqua vai Che magia Eccolo Che magia ragazzi Che magia Vedo già le visualizzazioni Vedo già che diventa virale Male male Lo vedi? Guarda che facce sognanti Sì sì Ma perché? Questo è un altro discorso Tu se vieni in Vietnam Devi venire a Hoian Devi farti in giro in barca E devi divertirti Cioè Magari a te non te ne frega assolutamente niente Ti fa schifo Se ti puzza di fogna Però È nel to do È una roba da fare Questo è un altro grande problema E ne abbiamo parlato anche con persone Con cui abbiamo fatto le consulenze Che quando organizzano i loro viaggi Ma è capito Come l'ho detto Anche il telefono si rifiuta Mentre stavamo Esprimendo un concetto È finito lo spazio Non ne può più Basta Andiamo via Andiamo via Sembra che sia un copione Che tu devi per forza fare Non c'è uno sguardo sognante Non c'è una faccia divertita Non c'è nulla di poetico Perché il problema Di questi posti Ma del turismo in generale E l'abbiamo anche visto Con delle persone Con cui abbiamo fatto le consulenze È che la gente si sente Cioè guarda questa che si sta facendo La foto finta di fianco a me No io vabbè Sono senza parlare Cioè è che la gente Se fa un viaggio Si sente in dovere Di andare in determinati posti Ma alla fine a te Che stai guardando Ti interessa veramente Cioè tu non devi scegliere Di andare in un posto Perché hai visto Che ti devi fare la foto lì 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 Ti piace andare in barca Ti piace Vedere i templi buddisti Ti piace vedere Le cittadine storiche Se non ti piace Non lo fare E chi ti dice Sei andato in Vietnam Non sei andato a Jan Sei un coglione E digli che il coglione è lui Basta Veramente Fermiamoci qua Non ce la faccio più Fermiamoci qua Sono piena rasa Ne ho fin qua E adesso diciamo queste Ma non perché ce l'abbiamo col Vietnam E questo posto Ma figurati Perché questa la puoi fare in Italia Ed è una caffanata uguale Quindi in realtà È proprio il concetto Come diceva Chiara Di escursione Che ormai ha rotto i coglioni Sì Basta Andatevi a vedere i posti Che vi piacciono Esatto E non smenatecela Queste foto Queste cose che non ce ne frega niente No ma perché poi Ti crea proprio L'ansia da prestazione Cioè devo organizzare Perché devo assolutamente Ma se a te non te ne frega niente Non c'è andare Tanto poi è questa roba qui Non si sta divertendo nessuno Su ste barche Nessuno Quindi il video Era iniziato benissimo Il bambì è sicuramente promosso Esatto Se volete venite per il bambì Per il resto Fatevi una notte Una giornata E poi via Siamo alla fine del video Quindi mi raccomando Iscrivetevi Condividete come sempre Tutte le varie cose Scriveteci la vostra Cosa ne pensate Se ve lo aspettavate così Se siamo stati troppo Duri Perché poi è anche bello Confrontarsi su queste cose Perché questi posti Nel bene e nel male Ci fanno sempre riflettere Quindi ci fanno sempre fare Dei ragionamenti Su che cosa è diventato il turismo Su cosa sta diventando Ed è importante da sapere Perché comunque Adesso Dopo il covid La gente ha ricominciato A viaggiare E vedere le cose Per quello che sono E non con la lente Dei social Che purtroppo Ingigantisce Fa quello che vuole Vende le cose Per quello che non sono È veramente importante Avere le aspettative giuste Quindi è una discussione Che ci interessa Fatecelo sapere Noi nel dubbio Torniamo ad Anani Noi nel dubbio Ce ne andiamo Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao